Buongiorno a tutti, questa è la mia testimonianza per il Master Executive in Well Management che si è esvolta alla Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino. Io ho partecipato alla prima edizione nell'anno accademico 2019-2020. Un Master naturalmente che consiglio a tutti, proprio perché fornisce gli strumenti necessari per la gestione dei patrimoni attivi. I temi trattati sono diversi e vanno dall'analisi finanziaria sul mercato nazionale e internazionale alla gestione di beni come possono essere i terreni, al mercato immobiliare, fino ad aggiungere gli investimenti in opere d'arte. Questo tema è a me caro, proprio perché lavoro in ambito artistico e le lezioni che ho seguito hanno arricchito il mio bagaglio culturale. Quindi proprio per la mia esperienza positiva non posso che consigliarlo.